buongiorno dai mobiliari d'este oggi vi proponiamo un appartamento a borgone parliamo di un ultimo piano un bilocale subito entrando troviamo soggiorno e cucina a vista la camera da letto matrimoniale con cammino armadio nella cucina si arriva anche al bagno con doccia finestrato il riscaldamento e tramite stufa pellet all'unico autonomo i seramenti sono il doppio vetro il pvc con gli scuri il balcone lungo a sud la richiesta è 15.000 per informazioni immobiliari